L'ennesimo premio di fine estate presenta l'ennesimo annunzio filogamo. Si distribuiscono Saline e Margherita d'Oro, le une e le altre ispirate al luogo dove avviene la manifestazione, Margherita di Savoia, graziosa cittadina balneare pugliese dove esistono anche cave di sale. Salina d'Oro a Romina Power, attrice giovanissima e già premiatissima. Salina d'Oro anche a Rossella Como che rappresenta la manifestazione e il mondo televisivo. All'inda Cristian, attrice e mamma di notorietà mondiale, spetta invece una Margherita. Nino Taranto rappresenta il teatro di Alettale Napoletano, giusto che anche lui abbia la sua Salina. Ed è giusto che l'abbia Blasetti, regista dalla lunga carriera durante la quale Premine ha collezionati tanti. Marisa Matteini, prima ballerina dell'opera, ha diritto alla Margherita, una danzatrice e un po' come un bel fiore. Tra il pubblico c'è anche un rappresentante del monopolio di Stato, per via del sale naturalmente che del monopolio fa parte. Non c'è dunque fiaggia senza premio e non c'è premio senza danza finale. L'onore di aprire il ballo alla più giovane dei premiati, la scatenata Romina.